Fiumi in piena, strade allagate, piante e pali abbattuti e molte zone senza elettricità. Il maltempo ha provocato danni e disagi in tutte le province marchigiane. I vigili del fuoco, la protezione civile, ANAS e le forze dell'ordine hanno eseguito centinaia di interventi. Nella notte sono stati monitorati i corsi d'acqua, ma a destare maggiore preoccupazione è stato il fiume Misa. A Senigallia, infatti, tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza e nella notte le pattuglie delle forze di polizia e i volontari hanno avvisato la cittadinanza e chiesto di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti alle effettive necessità. In mattinate, in via Precauzionale, sono state chiuse diverse strade, così come l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il distretto sanitario di via Campoboario. Domani le lezioni scolaresche si svolgeranno regolarmente, criticità diffuse anche nella provincia di Pesero Urbino, dove si sono verificati frane e allagamenti. Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di rami e alberi in strada. Alla liscia è caduto uno dei pini e l'aria è stata delimitata per ragioni di sicurezza. Domenica ci siamo occupati soprattutto dei danni provocati dal grande vento, quindi sono stati alberi abbattuti e insieme ai vigili del fuoco, il volontariato protezione civile e il comune di Fano hanno rimosso e garantito la regolarità anche dei passaggi carrabili. Mentre nella notte tra domenica e lunedì ci siamo molto preoccupati per quanto riguarda i livelli dei fiumi, dei fossi, perché la pioggia era tantissima e stamattina abbiamo riportato alcune situazioni pericolose. In realtà i fiumi, il torrente Arzilla e il fiume Metauro grossi problemi non hanno riservato, sono stati sempre all'interno degli argini, sono esondati nelle zone di campagna dove devono esondare. Nel caso invece particolare alcuni fossi localizzati, problemi soprattutto nella zona di Ponte Murello, a confine con Ponte Murello, Carrara quindi a confine con Ponte Murello, nella zona di Metauriglia dove un'abitazione è stata allagata dalla tracimazione di un fosso che è quello di Metauriglia, lungo Strada di Mezzo è stata chiusa e quindi altre situazioni sono costantemente tenute sott'occhio perché ovviamente non ci siano problemi. Per quanto riguarda invece i danni purtroppo è da segnalare che si è fatto risentire il mare e abbiamo dovuto chiudere Viale Ruggeri nonostante le scogliere anche a dimostrazione del fatto che è stata una situazione eccezionale di vento, di alta marea e quindi abbiamo chiuso in via precauzionale Viale Ruggeri perché le onde arrivavano sulla strada e ci sono stati dei danni sia a Fano Centro ma anche e soprattutto a Ponte Sasso in particolare dove il mare veramente si è fatto sentire e ha in un certo modo impegnato tutte le strutture ricettive degli operatori balneari che sono state costruite lungo gli arenini. La sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo emettendo un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo su tutte le marche per criticità idraulica e idrogeologica valido fino alla mezzanotte di domani, martedì 24 gennaio previsto anche il rischio di valanghe sui monti Sibillini e della Laga come annunciato invece non sono mancate abbondanti nevicate, specie nell'entroterra a Urbino i giovani non hanno perso l'occasione per divertirsi con slittini improvvisati e mentre si attende l'arrivo di altre piogge continuano incessanti gli interventi su tutto il territorio regionale anche a seguito di centinaia di segnalazioni dei cittadini, sempre operativo il CB Club Mattei di Fano Siamo partiti di mattina alle 10, tuttora siamo sul campo, riprendiamo nel primo pomeriggio col taglio degli alberi in supporto ai vigi del fuoco, questa mattina invece è stato più monitoraggio, un attenzionamento a quelle persone che chiamavano perché non si sentivano al sicuro e quindi insieme ai vigi del fuoco, insieme a tutta la parte comunale abbiamo monitorato questo, nel pomeriggio riprendiamo col taglio degli alberi, un po' la situazione è pesante, pressante ma non abbiamo criticità particolari Quanti volontari sono in azione? Dunque siamo partiti ieri mattina con una decina di volontari, poi il cambio nel pomeriggio, poi fino alle 3 di notte dalle 3 di notte a questa mattina alle 7 riprendiamo nel pomeriggio con una decina di volontari per turno Volontari in azione anche a Pesero, ieri la partita tra Visse e Pontedere è stata rimandata per impraticabilità del campo oggi invece occhi puntati sul fiume Foglia, dopo il casello di Senigallia è stato chiuso anche quello di Pesero in direzione nord per allagamenti, alcune aziende hanno deciso in maniera precauzionale di chiudere l'attività In grande difficoltà anche il ristoratore pesarese Filippo Ciavarini Noi cerchiamo di salvare i salvabili ragazzi, ma chiaramente tutti gli apparecchi elettrici, celle di frullatura, frigo speriamo non si debbano buttare via, speriamo di rimediare ma dopo essere state sommersi da mezzo metro e santa centimetri di acqua riprenderli va un po' dura, perché il problema non è tanto l'acqua e quando l'acqua defluisce lascia un residuo melmuso, cioè il fango che purtroppo si insinua dappertutto ed è un problema grosso Per quanto tempo pensate che starete chiusi? Non abbiamo la più palleria perché dipende dal tempo se continuasse a piovere così ragazzi, prima di due o tre settimane non riusciremo a aprire sicuramente perché il discorso più grande qui non è tanto mettere a posto, sanificare e pulire quello in due o tre giorni si riesce a far tutto l'abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai messi a piangere, va benissimo il problema è se ho una cella di frullatura rotta e non si rimette a posto ci vogliono circa due mesi prima di riverla adesso stiamo facendo appunto il conto dei danni ma stiamo ancora tra virgolette lottando per capire che cosa ci è successo perché noi siamo in piedi da stamattina alle 6 e ma oggettivamente ancora non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare ho ancora una cassetta in mano, non sappiamo neanche dove metterla perché purtroppo questo è volete lanciare un appello? l'appello no, siamo stanchi di lanciare gli appelli come al solito nostro cerchiamo di fare tutto da soli senza rompere le scatole a nessuno ovviamente i miei amici e gli amici mi hanno già chiamato per capire se avessi bisogno di una mano gli amici sono sempre amici, non c'è niente da fare grazie grazie